Ciao, sono Francesca, ho iniziato ad allenarmi quattro mesi dopo la nascita della mia bimba con il programma di Marco in forma dopo il parto in 30 minuti e sono molto contenta dei risultati che ho ottenuto. Seguire gli allenamenti con Marco e vedendolo proprio lì vicino a me era proprio come averlo di fianco a me ma con la comodità di casa mia. Le audio coaching mi sono servite soprattutto nei momenti di stanchezza dove avrei aperto il frigo e sbranato tutto e invece mi sono state molto d'aiuto per focalizzarmi proprio sul mio programma sul risultato che volevo ottenere. Il frattissimo che mi è piaciuta di questo programma è potermi allenare i 30 minuti durante la giornata, quando voglio, vuole io dentro casa e tutti i giorni poterlo fare in un modo diverso, allenarmi in un modo diverso. Tre, la cosa che mi è piaciuta molto è poter o uscire con la carruzzina e quindi fare l'allenamento insieme alla vita altrimenti mettermi in sala con il tappetino e i miei due bimbi di fianco e allenarmi con loro lì che giocano e quindi poterli avere vicino a me e non doverli magari dare a qualcuno che per le mamme è un pensiero anche quello dover andare in palestra e a chi lascia un mio bimbo e invece così puoi averlo vicino a te e anche l'allenamento dove facevo stretching mi è piaciuto molto e servito molto perché trovavo molto sollievo per la schiena e lo consiglio a tutte le neomamme perché è proprio un allenamento dove il risultato finale c'è, riassicurando è facilissimo da fare, non rubi del tempo al tuo bimbo e poi stai proprio bene, appena finito ti senti bene con te stessa è un regalo che ci facciamo a noi mamme che ci vuole i primi mesi quando siamo i bimbi piccoli